Allora, questo è un gruppo che va al Open 18, siamo tornati nella categoria anche al 18, però, siccome potrebbe esserci mancava la vento lungo, sempre con le stesse persone, l'abbiamo anticipato adesso e lo conteggeremo poi voi, quindi non mi preoccupate. E qui sta a fare conmigo un'ottima. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.